Un cordiale benvenuto a tutti qui al Quirinale. È per me un piacere accogliere tutti voi e ringrazio molto l'ombraggiatore Vattani e i quattro professori che hanno parlato per il quadro che è emerso, che hanno presentato delle loro università e della collaborazione che a San Servolo si svolge con questa straordinaria iniziativa. Sono lieto di accogliere qui nella ricorrenza dei vent'anni dall'istituzione della Venice International University ricordando l'impegno che all'origine di questa iniziativa è stato spiegato dal Presidente Ciampi e naturalmente esprimo la grande soddisfazione perché il nostro Paese ospita questa iniziativa unica nella sua forma così intensa di collaborazione fra atenei che esprimono l'eccellenza della ricerca scientifica e della formazione culturale in tanti Paesi. La formula di collaborazione tra atenei di realtà diverse geograficamente e culturalmente è straordinariamente felice e moderna e consente agli atenei, all'Italia, il privilegio di ospitare questa iniziativa consente all'università di essere protagoniste insieme dello scambio culturale che nel mondo è sempre più indispensabile e consente agli studenti di essere inseriti in una formazione davvero di orizzonte il più largo possibile. La formula è davvero l'antesignana di quel che dovrebbe essere sviluppato nel mondo nella collaborazione culturale come elemento non soltanto di crescita, di formazione e di ricerca ma anche come elemento che rafforza, induce alla pace nel mondo attraverso la cultura e la comunanza delle riflessioni. È per gli studenti naturalmente una grande opportunità quella di affrontare temi di grande importanza insieme confrontando e scambiando esperienze, sensibilità, ricchezze culturali che ciascuno di loro porta e che ciascuno di loro riceve dalla varietà della formazione e della ricerca delle varie università. Il numero aumentato delle università che aderiscono all'iniziativa è la prova della felicità di questa formula. I temi sono di grande interesse e sono i temi al centro di questa stagione tra i tanti il tema dei diritti umani il tema dell'ambiente il tema dell'invecchiamento della popolazione il tema di grande importanza e di grande delicatezza della tutela del patrimonio culturale che è sempre stata una frontiera importante per il mondo lo è particolarmente in questo periodo in questa stagione in cui grandi siti di ricchecze culturali sono messe a rischio da un'offensiva di oscurantismo che ha come obiettivi la democrazia e la cultura a dimostrazione che la cultura e l'humus è il terreno su cui fioriscono la pace e la democrazia e anche per questo che l'iniziativa di cui siete protagonisti è di grande importanza e anche per questo ripeto l'Italia avverte il privilegio di ospitare questa iniziativa io vi rinnovo il benvenuto esprimo un grande ringraziamento per quanto riguarda il nostro paese ma anche come cittadino del mondo per questo mettere insieme la capacità, gli sorsi, le riflessioni culturali che provengono dalle varie esperienze tutte di grande eccellenza e così importanti grazie per questa straordinaria attività benvenuti al Quirinale auguri per la vostra attività per il futuro nelle vostre università e nell'iniziativa comune che si sta svolgendo grazie